Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Mercoledì 28 settembre, lettura del Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti 57-62. In quel tempo un tale disse a Gesù, ti seguirò dovunque tu vada. Gesù gli rispose, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse seguimi e costui rispose, signore concedimi di andare prima a seppellire mio padre. Gesù replicò, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse, ti seguirò ma prima lascia che mi congeli da quelli di casa. Gesù rispose, nessuno che ha messo a mano l'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Essere discepoli non è una cosa data per scontato, nemmeno banale. Gesù infatti, sembra dirci il Vangelo di oggi, non cerca seguaci a tutti i costi, pone dei limiti, manifesta delle precise esigenze. Il brano di oggi è illuminante ed esemplare e ci obbliga a riflettere sul nostro modo di essere discepoli. Gesù non vuole persone che lo cerchino per rifugiarsi in un comodo unito. La fede non è una cuccia che ci protegge dal mondo sporco e cattivo. Lui non ha dove posare il capo e chiede ai suoi discepoli la stessa disponibilità, a mettersi continuamente in gioco, in discussione. Gesù chiede di lasciare i legami parentali, l'idea dell'appartenenza ad un clan, a superare i miti ancestrali della famiglia totalizzante. È un legame che produce morte interiore, che rende schiavi di un'idea, che smorza le ali. Gesù ci ammonisce a non rimpiangere il passato, a non voltarci indietro. Quante volte invece i cattolici vivono rivolti al passato, cercando di farlo rivivere. La logica del regno è radicalmente diversa. Solo persone libere, disposte a mettersi in discussione, rivolte al futuro, possono seguire il maestro. È esigente il Signore, ma donna una prospettiva nuova che vuole assaporare e condividere il grande sogno di Dio. La lezione di questo Vangelo è immensa. Tutte quelle volte che siamo noi a prendere iniziativa per seguirlo, lo facciamo mossi da un'idea che molto spesso è troppo stretta per poterci far entrare realmente Dio. Allo stesso modo, però, quando è Dio a prendere iniziativa, cerchiamo costantemente di temporeggiare, di accapparrare scuse, ma solo per il fatto che abbiamo paura che tutto sia così vero da non avere più un reale controllo. Ma la domanda vera è, si è liberi quando si ha tutto sotto controllo, o quando si decide di rischiare per qualcosa in cui realmente si crede? Dio ha bisogno che noi diamo una risposta a questa domanda. Grazie per aver meditato insieme e se questo podcast ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani!